www.redigio.it e la storia continua Usi e costumi dei contadini Il parto E si avvicina il giorno del parto La sposa ha presso a poco già calcolato e preannunzato alla famiglia deducendolo dal tempo della gravidanza e questi calcoli però non sono sempre stati perché a volte le contadine sogliono computare le lune per i mesi senza riguardo alcuno delle fasi e così può succedere che la donna incinta crede di essere di nove mesi mentre in realtà è di nove lune che potrebbero equivalere anche a meno di otto mesi Le cure e i riguardi verso la sposa che è per partorire crescono sempre Non la si lascia allontanare da casa Le si danno da fare dei lavori leggeri che non richiedono disagio tipo la calza, resettare Seguitano ancora i prognostici relativi al sesso del nascituro così se la sposa cammina franca e si piega senza grande fatica partorirà un maschio Se al contrario è lenta nel camminare e non agile nel piegarsi e alla pancia ritta avrà una femmina Pancia ritta una bella citta Citta è il termine che si usa nel senese in luogo di bambina Così dicono i contadini E quando i dolori del parto cominciano a farsi sentire la massaia Massaia è contannome i contadini indicano la donna che attende sempre alla casa a cura di spazzare e spolverare la camera della partoriente di mutare le lenzuola del letto e di rivoltare a diritto la coperta che i contadini sogliono per eccesso di economia tenere sul letto sempre a rovescio Dalla massaia si mette il fuoco in un piccolo recipiente di coccio tutto ciò che si dice assettare il caldano Questo attaccato al trabiccolo che è un oggetto fatto con delle stecche di legno a forma di cupola serve a mettere il calduccio a letto dove appena riscaldato entra partoriente che con la sua camicia di bucato aumenta la pulizia della camera e del letto si lega il collo con una medaglia con le figie di Sant'Anna protettrice delle partorienti e qualche volta anche una con le figie di Madonna di Pompei si mette in seno preghiere stampate in onore di Sant'Anna e anche storie di miracoli fatti da Dea Santa storie che sogliono comprarsi dai giramondi o cantastorie nei giorni di mercato di fiera e di festa il quadro di Sant'Anna che è a capo del letto viene staccato e messo o sopra il cassone o sopra il comodino per accendergli più vicino sia possibile quasi l'aiuto di questa Santa sia così efficace un lume ad olio o una candela vendetta che la sposa suole tenere sempre tra il letto dalla luce più o meno viva che manda il lume si deduce l'esito buono o cattivo del parto talora si manda in chiesa ad accendere una candela anche questa benedetta alla protettrice Sant'Anna frattanto in camera si prepara tutto la corrente per il parto in una panierina si mettono un pezzetto di tela due fascioline di lino e un gomitolo di refe e un lume in cristi è detto così perché mentre si benedice si suole cantare per tre volte lume in cristi che un pezzetto di cera che i contadini hanno premura di procacciarsi da qualche prete e che tolto da un viticcio intrecciato di tre candele benedette nel giorno del sabato santo si crede che interandosi con questo il refe che servirà per regare l'obelico il nascituro sarà libero dalle malie delle streghe e vi è imposto sul cassettone o sulla casa un bicchiere di acqua pura e si riempie l'acqua benedetta la piluzza che sta a capo del letto potendo occorrere di battezzare il bambino in corpo della madre o appena venuto la luce ciò che si fa dall'elevatrice o dal dottore se presente al parto e non manca su comodino che accosto al letto un bicchiere d'acqua con dentro un pezzetto di pane arrostito la cosiddetta acqua panata a cui i contadini attribuiscono una grande efficacia in tutte le malattie e mentre ciò accade in camera della sposa partoriente il marito di lei va ad avvisare la suocera o la famiglia di questa se la suocera è morta questa ha appena saputo che la figlia ha i dolori del parto si incammina tosto prendendo con sé una gallina una dozzina di uova e anche se non molto distante da una bottega e non di notte una libra o mezzo chilogrammo di paste fini capellini, grandinina, semini tutto ciò che porta alla suocera si intende che debba servire al nutrimento della puerpera essa appena arrivata incomincia a prestare le sue cure di infermiera alla figlia in camera della partoriente trova di consueto la massaia le spose di casa o qualche altra donna o amica di famiglia o vicinante quando i dolori del parto crescono e si prevede il prossimo un cognato della parente o un altro uomo della famiglia che non sia il marito va a chiamare la baglia così qualificano i contadini l'ostetrica o lavatrice come quella che per prima presta al bambino tutte le sue cure se la famiglia della donna sopra parto possiede il cavallo colui che va ad avvisare la baglia si serve di questo se non lo possiede si rivolge a qualche famiglia avvicinante che lo abbia sebbene generale i contadini essendo sprovvisti del cavallo ricorrono al sensale di bestie per fare accompagnare la levatrice il sensale si presta a ciò molto volentieri perché sa di avere in compenso una discreta mangiata uova frittellate o sode o baccalà o prosciutto un bel fastello di fieno e qualche palata di grano o grano turco dà vantaggio quando va a riscuotere l'anno fitto all'aia sebbene la baglia sia accompagnata in legno succede qualche volta che ella non faccia tempo a raccogliere il bambino e lo trovi già nato e ciò deve attribuirsi in parte alla diffidenza verso i primi dolori del parto in parte forse anche alla confusione che si produce nella famiglia in simili circostanze ma il parto non finisce qui continua con la prossima puntata www.redigio.it e la storia continua www.redigio.it 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 www.redigio.it